bentornati ad ss ghezzo tv bentornato a beppe marconi a distanza credo di un paio di mesi torniamo qui ad ortalli siamo ortalli stava la trova il puzzo dell'altra volta voglio rispicarlo ancora ortalli tieni conto perché io non sento gli odori che ho sempre il naso chiuso quindi per me è come non sento niente soffri d'allergia a tutto si è tutto siamo ortalli qui nei pressi di quarata dove eravamo stati due mesi fa e non solo qui eravamo stati anche nella zona di quarata in altri posti dove abbiamo trovato questi scarichi liberi come vengono chiamati ora è cresciuta la vegetazione quindi si vede con difficoltà ma sbirciando si vede ancora questo flusso di scarico che chissà da quale lottizzazione arriva qui con tutta questa ortica che ci si fa bene i radioli i radioli all'ortica buonissimi e la questione è arrivata abbiamo fatto la trasmissione insomma forse un po meno di due mesi fa adesso la questione dopo anche lo servizio è arrivato in consiglio comunale l'assessore non è più assessore il consigliere comunale francesco comizi di arezzo in comune che sai è anche capogruppo perché è solo lui quindi è anche capogruppo di arezzo in comune ha fatto questa interrogazione all'assessore sacchetti dicendo che nella frazione di quarata sono emersi negli anni vari problemi dalle falde acquifere ai pozzi la precedente amministrazione che è intervenuta sulle acque con un costante monitoraggio erano rimasti da concludere una seconda fase di indagine ambientale sul suolo e la realizzazione di una di una rete fognaria pubblica a ortali dove siamo oggi perché non si è dato seguito a questi interventi perché si prevede che residui del fondo degli oneri da escavazione siano destinati alla manutenzione stradale di quagata un obiettivo meno coerente con il quadro normativo e ci credo visto che poi gli oneri sono sarebbero stati fatti per far sì che le acque tornassero come come erano alla volta invece si fa le strade e si lascia appunto questi scarichi asce all'aperto l'assessore sacchetti ha risposto dicendo che rimane valdito l'impegno sull'indagine conoscitiva sui suoli sugli scarichi liberi a ortali dove ci troviamo non ho preso analoghi impegni la problematica mi è stata posta ma ce ne sono varie di simili e l'abbiamo visto nel territorio per cui va fatta una scala di priorità degli interventi all'assessore sacchetti poi sono fatta consulenti in questo assolutamente gli indichiamo tutti i posti quello di ortali non è in cima capito questo qui non è in cima cari abitanti di quarata non vi lamentate tenetevi le falde archifere così praticamente sì stiamo però sollecitando il gestore del servizio idrico cioè nuove acque perché agisca direttamente su questa situazione ambientale ho capito ma se non ci sono le fogne che fa nuove acque tu come lo capisci? Niente penso che nuove acque possa agire direttamente poi rimettere il conto al comune d'arezzo penso non a parte lo potrebbe costruire però sicuramente deve prima deliberare dopo una volta che è deliberato l'impegno eventuale a quel punto di vista lo può fare ma qui si passano anni passano anni perché meno male gli interventi vengono stabiliti per tempo e quindi di conseguenza i cittadini stanno così per tanto tempo io ripeto di scoprire un'altra cosa questi scade qui sono dovuti sicuramente ai insediamenti urbani fatti di recente non l'ho capito perché non vengono controllati gli insediamenti urbani che dovrebbe avere tutti dei depuratori ma qui non c'è la rete fognaria proprio il problema è questo ma se i depuratori funzionassero nei fossi verrebbe l'acqua pulita ah certo certo invece così viene l'acqua così com'è quindi bisognerebbe oltre non è nella priorità intervenire a urtali però si potrebbe controllare da dove arriva e obbligare sicuramente come è stato fatto in altri posti ad esempio nell'area del busone a trecozzano tutti gli abitanti che non avevano le fognature sono stati obbligati a fare i depuratori quindi se non si interviene però obblighiamo questi proprietari a fare quello che devono fare perché altrimenti se no la licenza le licenze edilizie con le quali viene detto di comunque sia di fare questi depuratori non sono rispettate e quindi anche l'abitabilità avrebbe qualche problema sicuramente questi controlli chi le dovrebbe fare il comune di fare il comune adesso è l'asle 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 controlla il comune dovrebbe mandare degli spettatori come si chiamano no dovrebbe fare la denuncia all'asle l'asle per controllare però l'assessore ha detto io sono a conoscenza di ortali dovrebbe allora essere a conoscenza indurre l'asle a fare questi controlli sicuramente sì e smettiamo che dà la colpa sempre a tutti i cavatori perché i cavatori poi hanno investito in una serie di capitali per poter ripristinare e quindi facciamo fare un po' tutti visto che l'assessore lo sa e ha detto che non era le priorità adesso noi riproveremo a segnalare alla asle questa cosa e vediamo cosa succede va bene vediamo se allora qualcuno interviene è perché il problema ci facciano un ribalzo di competenze dice che no è il comune il comune come qualche altro posto precedente amministrazione successiva amministrazione è tutto così si fa così però non si risolve niente è merito di quell'altra non è merito il tuo è così ciao ciao